Come possiamo aiutare i nostri bambini, i nostri figli di fronte ai social, che sono uno strumento importantissimo, che ha cambiato lo stile di vita di molti di noi, che ce l'ha anche migliorato, ci ha permesso di entrare in comunicazione, in contatto con persone anche molto lontani da noi, e che ci offrono sempre, ogni giorno, tanti spunti anche su cui riflettere. Ma sono strumenti molto potenti e, essendo potenti, hanno anche dei grandi rischi. E i social non sono stati progettati da psicologi dell'età evolutiva o da educatori benintenzionati, sono stati progettati da società che hanno come unico obiettivo quello del profitto e quello di aumentare sempre di più i propri utenti. Quindi, i bambini che per sviluppo ancora non hanno le capacità di discernere concretamente tra un pericolo e un non pericolo, non hanno la capacità anche a livello emotivo di analizzare e di gestire le emozioni che provano di fronte a certe immagini, certi video, certi commenti, loro non possono difendersi da solo. A questo punto, siamo noi adulti che abbiamo il dovere di aiutarli a superare indenni i pericoli dei social. Facciamo un esempio. Uno, lascerebbe un bambino solo, indifeso, all'interno di una piazza enorme, gremita di gente, di folla, senza controllarlo per un'ora, un'ora e mezza, o anche due? Cioè, non vorreste sapere se parla con qualcuno, se si sta allontanando, se c'è qualcuno che si sta rivolgendo a lui? Io credo che la maggior parte di noi non lascerebbe il bambino solo per tutto quel tempo. Ma questo invece non accade con i social, o comunque con lo smartphone, o con internet. Molte volte i bambini sono lasciati a loro stessi e si trovano a frequentare, metaforicamente, una piazza infinita, con miliardi di persone che possono accedere ai loro contatti, mettersi in comunicazione e anche chattare. E quindi poter trovarsi a dover rispondere a delle domande di persone che non conoscono, pubblicare foto di cui forse si pentiranno. Quindi, non sarebbe importante essere presenti quando loro chattano o usano il telefono e cercare di dirigere un po' il loro modo di utilizzarlo? Io credo proprio di sì. E allora proviamo a darci tre punti su cui lavorare. Il primo, basilare, è sono convinto che sia adesso il momento in cui lo smartphone deve entrare a far parte della vita del bambino. Posso comprarglielo magari un po' più avanti, tra qualche anno? Ad esempio, alcuni social hanno come limite di ingresso l'età dei 13 anni. Però è facilmente aggirabile. Se uno falsifica dei dati, potrebbe entrare anche se non ha ancora l'età. E molti bambini, purtroppo, senza controllo, lo fanno. Per poter accedere a queste piattaforme. Secondo, quando il bambino o la bambina usa il telefono, io sono in grado di monitorarlo in quel momento. Posso osservare con chi sta ridendo, con chi si sta scambiando il numero di telefono, con chi è entrato in contatto. Può essere sia sul telefono, sulle chat delle console di giochi, perché molti videogiochi hanno la chat online. Cerco di capire se si diverte, se è triste, se ha dei contenuti che lo spiazzano, che li mettono a disagio, che difficilmente puoi lavorare. Se non sono in grado, posso trovare un modo per contrattare con lui l'utilizzo, in modo tale che io possa essere presente. 3. Sono in grado di stare al passo con tutte le novità, con tutte le modifiche che vengono apportate a questi social, a questi strumenti? Faccio in modo di essere sempre aggiornato, io posso dare un consiglio. C'è un link a un sito, Orizzonte Scuola, in cui vengono descritte le maggiori applicazioni, i maggiori social a cui sono affezionati i bambini e i ragazzi più giovani, con alcuni punti di forza, cioè che possono essere positivi, e anche alcuni punti che sono rischiosi, cioè che mettono a disagio o in difficoltà i bambini e i ragazzi. Lascerò il link qua sotto in descrizione, ed è importante, secondo me, averne consapevolezza e conoscenza. Per far sì che i social siano amici dei nostri figli, dobbiamo aiutarli a crescere consapevolmente, aiutandoli a gestirli in maniera adeguata alla loro età. Non è il caso di lasciarli soli. E poi, soprattutto, è qualcosa che ci permette di stare più tempo con loro, poter contrattare con loro se ci sono delle difficoltà, conoscerli ancora di più. È uno strumento che possiamo usare per essere maggiormente educativi nei loro confronti. Se hai degli spunti, dei commenti, che possono essere utili anche per gli altri genitori, per altre persone che sono interessate all'argomento, li puoi scrivere qua sotto. E se ti è piaciuto questo video, e ti è interessato, lo puoi condividere con altre persone. E se vuoi, ti puoi iscrivere al mio canale YouTube.